Che emozione, Angelo, anche la capitana? Ma sicuramente grandissima, ce la si è meritata tutta questa partita secondo me. Non era semplice, eri a tranquillizzare anche un po' i compagni dopo il gol subito, un po' di sbandamento che ci stavano? Ma è normale, insomma giochi sempre in casa dell'Inter e loro hanno messo la formazione tipo, quindi per noi è stata dura. Ma loro potevano fare sicuramente più di un gol, ma anche noi potevamo mettere dentro qualche gol, quindi penso che alla fine se andiamo a guardare i due confronti la Sampa ha strameritato. C'è un aggettivo per questi tifosi straordinari, 15.000 sono usciti i festanti, adesso pensano a Robo? Sì, sicuramente come sempre, sapevamo che ci avrebbero seguito in tanti, infatti ultimamente avevano anche reclamato più biglietti. Stasera si è visto, sembrava di giocare in casa, quindi per noi è stata anche quella una bella spinta. Alzare la Coppa Italia da capitano, che pensiero ti fa? Sarebbe un sogno, però adesso vediamo, domenica c'è il Cagliari, poi c'è il derby e poi ci penseremo. Proprio questa notte diciamo, alla Sampa per altri 10 anni, 20, 30, 40, quello che volete? Ma sì, sì, vedete voi, mettete voi quello che vi pare. Abbiamo visto correre alla fine e saltare un buon giro. Ma sono gioia, sono soddisfazione, insomma, tanto che sono qui e penso che ogni anno siamo cresciuti, siamo cresciuti, quindi questo fa piacere, ci tenevamo in maniera particolare, proprio anche per la nostra gente. C'è qualcuno che qualche mese fa parlava di stagione quasi fallimentare, adesso si deve ricredire. Ma comunque se si va in finale, una buona stagione, poi sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe vincerla, ma a mio avviso non è stata una stagione fallimentare. In campionato, è inutile dirlo, abbiamo avuto le nostre difficoltà, a volte un po' di sfortuna, a volte per errori nostri, però penso che questa squadra, insomma, quest'anno non si possa chiedere di più. Non era semplice comunque venire a giocare qua con l'Inter a viso aperto e voi lo avete fatto? No, no, noi abbiamo giocato la palla, quando abbiamo potuto abbiamo sempre giocato la palla, poi è normale, qualche errore ci sta, questi campioni ti pressano, poi sono, sia fisicamente che tecnicamente, sicuramente sono superiori, quindi ci ha messo in difficoltà. Non è grande la soddisfazione di aver eliminato Mourinho, che è proprio simpatico? No, no, la soddisfazione è andare in finale, chi c'è c'è dall'altra parte, e poi è normale, l'Inter comunque fa più risonanza. Adesso la Lazio, forse era meglio la Juve perché sarebbe stata Coppa UEFA matematica, comunque la Lazio c'è voglia di giocarsela assolutamente? Ma sicuramente, qui poi è normale che ci facciamo i conti, meglio la Juve perché magari sta un pochino peggio, la Lazio sta meglio, però poi la finale partita se che può succedere di tutto. Marco, ce l'avete fatta a fare l'impresa? Eh sì, abbiamo gestito una partita in ottimo modo e abbiamo fatto, secondo me, una gran partita perché venire qua a giocare contro un Inter fortissimo, una squadra fortissima, lo sapevamo, i Bravino ci ha messo in difficoltà per una ventina di minuti con il gol e con il palo, insomma ce l'abbiamo vista brutta, però abbiamo gestito benissimo la partita. Un po' di sofferenza, ma anche più bello adesso, godersi. Le vittorie sofferte sono sempre le migliori, ma l'impresa l'abbiamo fatta a Genova e oggi mi ha fatto un'altra impresa e perciò meritiamo questa finale al massimo dei voti. Lo merita anche questo pubblico? Sì, il pubblico è stato eccezionale, veramente incredibile, avevo la pelle d'occa quando sono entrato in campo, sinceramente, vedere tutti i nostri tifosi a San Siro sembrava veramente di stare in casa. Ora questa finale viene a Roma purtroppo, però ce la metterete tutti? Sì, giocheremo tra virgolette fuori casa, ma ci saranno i nostri tifosi numerosissimi, insomma, se sono venuti qua arriveranno anche a Roma a sostenerci come hanno sempre fatto e adesso abbiamo prima il campionato e poi pensiamo alla Coppa. Abbiamo ancora la transagonistica addosso, quindi soddisfazione fantastica, perché comunque è stata una battaglia, l'Inter come sapevamo ci ha messo in difficoltà, però ne usciamo a testa alta e con una finale importantissima, quindi questo ci fa pensare che è una stagione comunque positiva. Possiamo riusciti a fare un golletto, magari avremmo passato l'ultima mezz'ora al secondo tempo più tranquillo, l'occasione l'abbiamo avuta e vuol dire che ci siamo venuti qua a giocarci. Abbiamo avuto un attimo di sbandamento, forse dopo l'1-0, diciamo che tutte le certezze che avevamo ci sono cadute, però poi abbiamo ripreso soprattutto nel secondo tempo in mano il gioco. Allora alla fine hanno giocato a palle lunghe con due davanti, insomma un gioco non da Inter secondo me, poi a me non mi frega niente dell'Inter. Una grandissima gioia davvero. Sì, sì, grandissima, grande soddisfazione, siamo contenti. Penso che tutti debbano essere orgogliosi di questa squadra, di chi è entrato in campo, di tutto il gruppo. E' ringraziamento anche ai tifosi che stasera sono stati eccezionali, abbiamo praticamente giocato in casa. E quindi è stata una serata che rimane nell'esperienza di ogni professionista. Alla fine la sandoaria di quest'anno si ricorderà, perché comunque si gioca una coppa a metà maggio, e quindi questo vuol dire che la squadra c'è, ha dei valori, e l'ha dimostrato anche stasera. Sì, tra l'altro l'escolazione era anche scivolato, abbiamo perso un campo un po' traeva un po' in inganno. Sono scivolato, fortunatamente ho avuto il riflesso, il colpo di Reni da arrivarci. Meno male, perché comunque essere andati a riposo ancora 1-0, ha tenuto in piedi le nostre... avevamo più certezza, perché comunque avessimo preso 2-0 sarebbe stata ancora più dura. Ma guarda, io onestamente ieri sera ti favo Juve, anche perché comunque avremmo, indipendentemente, che là ce la giocheremo, perché la Coppa è una grande occasione, però avremmo comunque già il biglietto per la Coppa UEFA, però non è stato così purtroppo, cioè noi siamo fautori del nostro di destino, non quello degli altri purtroppo. Quindi va bene così, andiamo là, ce la giochiamo. La Lazio gioca tra virgolette in casa, però comunque noi stasera a San Siro abbiamo giocato in casa anche noi, quindi non credo che sarà un problema. Ce la giocheremo come su ogni campo abbiamo fatto. Sapevamo però vedere praticamente tutto il primonello dietro la porta, blucerchiato, e anche altri settori, mi sembra che onestamente è stata una bella emozione. Peccato di aver fatto gol sotto di loro, è stato il salvataggio mi sembra sulla linea, quella lì sarebbe stata proprio la ciliegina, però alla fine dovevamo passare, vincendo, perdendo, giocando bene, male, alla fine l'importante era passare.